Come personalizzare così gli sfondi su Windows 11 e la versione 24? H2 ovviamente è rimasto così come è Windows 11, quindi in questo caso per personalizzare così gli sfondi, quindi uno sfondo sul tuo desktop, puoi semplicemente cliccare tasto destro sul desktop e vai su personalizza. Ti porterà su personalizzazione sfondi, puoi personalizzare lo sfondo in tipo presentazione oppure tinta unita, tipo scegli un colore oppure un'immagine qualsiasi, tipo per esempio sfoglia così le foto, vai in desktop, vai a prendere così una foto, tipo per esempio vado a prendere uno sfondo di Silent Hill 2, metto scegli immagine ed eccolo qua. Oppure semplicemente puoi direttamente andare su presentazioni, scegli un album di immagini per una presentazione, vai su sfoglia ed eccolo qua. Ti porto direttamente su immagini e vai così a scegliere la cartella di immagini, in questo caso vai direttamente su immagini, crei una cartella, la chiami, non so, io metto due, ci metto dentro delle immagini tipo degli screenshot che ho fatto così, chiudo qua, faccio sfoglia, vado a scegliere così questa cartella dove lo riempita di immagini e faccio scegli questa cartella. Scegli un album di immagini, cambia immagini ogni 30 minuti, ogni minuto, riproduci in modo causare l'ordine delle immagini e basta. Scegli un adattamento per l'immagine del desktop, riempi, adatta, allunga, affianca, centra e stenti l'immagine sul desktop. E poi abbiamo contenuti in evidenza di Windows, questo qua. Contenuti in evidenza di Windows, con immagini di sfondo si applica a desktop corrente, di sfonte a tinta unita o con presentazioni si applicano a tutti i desktop. faccio immagini ed eccola qua. Se hai problemi puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao